Ehi la, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, questo sarà un video try on haul, quindi andremo a provare tutti i vestiti che ho comprato in questo periodo, perché non li ho presi tutti in un unico giorno, ma in giorni diversi, ma penso proprio che non abbiate visto neanche uno, quindi volevo appunto mostrarveli. Quindi possiamo iniziare subito con il video. Allora, come primo acquisto, questo arriva da Amazon e sono queste. Allora, sono delle spille molto carine per chiudere i cardigan, magari quelli lunghi, comunque, vabbè, non chiuderli, chiuderli, però con una bella spilla rimangono quei semi aperti, chiusi comunque, e anche da renderli un po' più carini. A tipo 5 euro, mi sembra, ho preso queste qua, sono due, queste hanno già indossate, infatti ci sono tutti i pelumini dei maglioni. Ne ho presa una argento e una oro, quindi ad esempio anche questo, adesso ve la metto qua, comunque da legare sul punto vita e chiudere i cardigan, quelli che non hanno bottone o chiusura. E appunto c'erano queste due e anche queste, ma non mi fanno impazzire, però, boh, magari queste più per bellezza, sia bianche che nere, e sono da chiudere così. Io sono un po' più delicata, ho paura che si possano aprire. E queste possono, sì, non maglioni troppo grossi, non troppo ampi, perché sennò si aprono subito. E appunto ci sono anche bianche, cioè di perle di diverse dimensioni, cioè sia così bianca che così nera. Comunque, sì, magari questa è anche da bellezza, è da mettere qua, eccetera, eccetera. Quindi questo è stato il primo acquisto. Partendo da un negozietto di paese, diciamo, ho preso questo maglioncino qua. Non mi aspettavo neanche di prendere, vi dico la verità, perché è molto power. Cioè, questo cardigan, non so se l'avevo mai fatto vedere, ma ha tutti i colori pastellini e il lurex, quindi di quel tessuto qua, un po' brillantinoso. Ma comunque sono colori pastellosi, cioè non troppo invasivi. Mentre quel maglione qua è un proprio... non so neanche se mi sta bene, boh. Ho mai fatto io il test dell'armocromia, chissà cosa sarò. Comunque questo è molto fluo, va giù così. E ha quella particolarità delle maniche un po' a sbuffo, diciamo. Questo è cotone, molto leggero, non è quei maglioncioni pesanti che ormai, almeno da me, fa un caldo allucinante, quindi non potrei più usare. Ma sono questo, molto carino, dai, vediamo magari anche qualche sera in estate o in primavera adesso, senza giubbino, ci sta. Comunque non mi sembra mi stia malissimo quel colore qua. E ho preso scontatissimo, l'ho visto lì, non mi faceva così impazzire, ma ho detto perché no per 8 euro. È questo vestito di Zara, con le costine, maniche corte, e va giù super lungo. Vediamo se, fino alle caviglie praticamente, anche questo in cotone. Mi piaceva da mettere su qualche sera tranquilla con una ciabattina, super easy, delle sneakers. carino, appunto era super in saldo e l'ho preso molto semplicemente, quindi c'era proprio un reparto misero dei saldi, comunque era molto molto carino. Ho preso due giacchettine, allora ho preso questa, di questa marca, ok, fatta un po' così con questa trama, un po' leopardo, un po' non si capisce bene, con i bottoni, quindi si apre, dentro di questo verdino e va giù così con i polsini sia sulle maniche che sul retro. Comunque vedete tutto indossato, ma non è male dai, molto carina, anche questa da appoggiare su, molto easy, e mi piace devo dire, molto molto carina. Poi un'altra giacca che ho preso, questa è una camicia giacca, per favore, camicia no, però sono quelle giacche proprio, non so come spiegarvi. Allora, la giacca in questione è questa, ok, è molto spessa, cioè, comunque di questa marca, non so se l'avete mai vista, è abbastanza famosa, almeno da noi, quindi, quindi è tutta nera, dietro ha la scritta sempre 424, sarebbe forcioforo. Comunque, sì, questa è molto molto carina, magari su internet la trovate, perché poi da noi la rivendono in vari negozi, non è un negozio fisico, quindi magari se la cercate su internet è comunque una marca molto, abbastanza conosciuta. Allora, un acquisto che cercavo da un po', devo dirvi la verità, sono questi stivali. Allora, questi stivali li ho presi da Barca, Barca penso anche che questa sia una catena comunque che c'è un po' in giro nei centri commerciali, quindi penso sia abbastanza facile da trovare, e sono quelli che hanno di solito la V qua oro, che ho visto penso ovunque, sono così, allora, sono a bassi di tacco, e altri di gambe mi arrivano circa sotto il ginocchio, però hanno una piccola zeppettina all'interno, vedete qua, non so se si nota, tipo così che va giù poi ovviamente, c'è un po' di zeppettina. Allora, questi penso siano in pelle, boh, sì, forse sì, perché si fanno tutte le grinze, infatti tendo sempre a mettere dentro la carta per far rimanere la forma, altrimenti si fanno tutte queste cose che odio e poi vanno a spellarsi. Spero di no, ovviamente. Comunque sono molto carini, allora non ho voluto prendere quelli con la V, perché secondo me erano troppo invasivi, ho visto questi che avevano questo tagliettino, appunto sempre di una V, non so di cosa. Però almeno non era troppo marcata, quindi è fatta proprio con un taglio, così, e basta. Quindi ho detto carini, le ho pagate scontati, perché comunque, beh, adesso gli stivali sono abbastanza scontati. Abbastanza, vi devo dire la verità, no. Comunque ho preso un 39, e non dico che è stretto, perché l'ho provato il 40 e ci ballavo dentro, però io ho una pianta molto larga e quindi con questi è leggermente un po' stretta. Però, vabbè, non faccio le lunghe camminate con queste, altrimenti sono un po' scomodi. E li ho pagati, mi sembra, 150 euro contro i 170. Secondo me non li scontano più così tanto, perché sanno che anche in estate vengono utilizzati spesso. Però comunque in estate delle volte con un vestitino li utilizzo. Ok, poi, passiamo a Sefra, questi sono gli ultimi acquisti per quello che ho ancora le borsine. E ho preso, è un campioncino, mi hanno dato questa, di questa crema che io ho. E ho preso il famosissimo, nuovissimo, concealer Dior Backstage, quindi il correttore di Dior Backstage. Io ho già il fondotinte, voglio provare assolutamente questa combo. Ho preso la 1W, dovrebbe essere la 1W, e spero non sia troppo chiara, perché ultimamente sto sbagliando un sacco di colori in negozio, non lo so. Io ho già il fondotinta, che è questo, vedete? Un po' diverso, infatti questo è il 3N. Comunque, boh, non lo so, voglio provarlo e lo proveremo in un video, perché è super chiacchierato, mi ispira un sacco. Beh, il pack, che dire, è bellissimo. Volevo comprare un sacco di altre cose, ma non c'era niente. Volevo comprare lo stick del bronzer di Selena Gomez, di Real Beauty, non c'era. Volevo prendere la terra, quella cremosa, nel bottone così grosso di Chanel, non c'era. Poi era un po' di fretta, ho detto, non ho tempo di guardare altro, vado. Quindi ho preso solo questo. Ah, e l'ho pagato, vi dico, ovviamente non scontato. 29,90. Bene. Non vedo l'ora di provarlo, anche questo. E come ultima, diciamo, come ultimo shopping, sono passata da H&M. E anche qua ho preso proprio due cosine. Vi dico la verità, ultimamente quando vado in questi negozietti, allora non mi serve mai chissà cosa, però non c'è mai niente. E quindi mi passa la voglia e me ne vado. Prendo cose a caso, quindi sbaglio. Comunque, per 5 euro una XXL da uomo ho preso una maglia tutta nera, in cotone, maniche corte e via lunga, così da stare in casa. Niente di che, vabbè, ci accontenteremo. Per questo pezzo, vi devo dire la verità, mi piaceva abbastanza. Ho pagato 19,99 e passiamo da una XXL a una XXS. Cioè, fa troppo ridere sta roba. Comunque ha un maglioncino molto largo, eh. Molto, molto largo. Tutto crop, con le maniche, così, e tutto bucarellato. Ho pensato anche a una sera d'estate, sia chiuso come crop e sotto reggisciano nero. Tanto non si intravede praticamente niente. Ho aperto con sotto sempre un crop, una magliettina molto corta, nera, bianca. E comunque vedrete adesso. È anche uguale tutto verde o tutto marroncino. Mi piaceva questo combo un po' bianca e nera. Basta, che dire, è già finito. Perché poi ci sono già cose molto estive, ma ovviamente non mi sentono ancora nel mood estivo, anche perché non faccio niente. Non mi servono per andare a lavoro o per altre uscite. Sono cose davvero troppo estive, quindi non compro mai niente. Però, vabbè, dai, ho preso qualcosina, almeno, ancora da, ancora, che si può utilizzare. Basta, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero vi sia piaciuti i miei acquistini. Fatemelo sapere con un pollice in su. Iscrivetevi al canale. Io vi mando un super bacio. Ci vediamo presto con un altro video. Ciao!